Alle nostre spalle è l'Ub vaccinale di Trigiano dove tanti bambini in età compresa tra i 5 e gli 11 anni accompagnati dai rispettivi genitori si stanno recando per effettuare il vaccino in vista del rientro imminente a scuola. Lo che è importante è che la gente viene in maniera ordinata e questa volta è stato apportato un correttivo che è quello della prenotazione. Questa squadra sta facendo un grandissimo risultato e sono molto contento dell'affluenza costante e continua dei nostri bambini. Sicuramente su questa strada ne veremo fuori. Il centro vaccinale ha potuto contare su un ampio numero di prenotazioni tra le 220 e le 240 a conferma del fatto di come in Puglia la copertura vaccinale 5 e 11 anni riporti i dati più alti rispetto a tutte le altre regioni italiane. Soddisfatti il sindaco di Trigiano Antonio Donatelli e Giuseppe Pellecchia responsabile medico del Lab. I bambini stanno arrivando con orari ben precisi, non c'è confusione, c'è il rispetto della distanza, c'è il rispetto della mascherina e niente, quindi cercheremo di portare a termine la seduta di oggi con circa 220-240 bambini. Il tutto è stato accompagnato da figure di tema natalizio. Per far sentire i più piccoli a proprio agio esprimono convinzione anche i genitori presenti. Naturalmente consiglio di vaccinare tutti i bambini perché comunque il periodo è quello che è e quindi non bisogna assolutamente revocare questo vaccino. Quindi come abbiamo fatto noi, lo stiamo facendo tutti quanti, dovete anche voi farlo per i vostri figli, per il futuro di tutti.